Julian Assange sarebbe stato arrestato a Londra, capitale del Regno Unito, nell'ambasciata dell'Equador. Di ciò ci informa lo Scotland Yard, ricordo che Assange è il protagonista del cosiddetto caso Vichilix. Dopo sette anni, dopo essere entrato nell'ambasciata equadoregna, sotto custodia della polizia si trova proprio Julian Assange per affrontare in maniera debita la giustizia proprio di questo paese, così avrebbe detto il ministro dell'interno, Sajid Javid, confermando una notizia di arresto data da Scotland Yard. Voglio ringraziare l'ambasciata dell'Equador per la sua cooperazione della polizia per la sua professionalità, così avrebbe detto e poi avrebbe giunto nessuno addi sopra della legge. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio altresì per la visione di questo video di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate e un salutore caro al prossimo video da narratore italiano.